Prima di passare all'argomento Europa vorrei dire proporre che la parte dell'intervento di Molgora sul caso eclatante del sindaco di Montichiari venga trasformato in mozione e questa mozione venga votata, possibilmente firmata dal maggior numero di nostri esponenti istituzionali, soprattutto i sindaci, e venga mandata al Ministro della Giustizia e al Commissario europeo all'ambiente che io ho già sensibilizzato con una lettera che so aver avuto anche spazio sui giornali locali. Non dobbiamo mai lasciare soli i nostri quando sono colpiti in questa maniera, mai! La mozione preparata dai nostri sull'Europa è una bella mozione. Io le ho lette con molta attenzione questa mattina e mi compiaccio veramente del lavoro svolto. Le mie sono aggiunte, viste dall'occhio e dalla sensibilità della componente indipendentista della Lega Nord che è sempre molto forte e a nome di questa componente un uomo come Flego ha già parlato e dopo che ha parlato Flego in quel modo avrei potuto anche non parlare più, ma parlo come tecnico mandato al Parlamento europeo dieci anni fa e che quindi ha il dovere di aggiungere alcune cose da questo taglio. Beh, prima di tutto la questione dello Ius Soli la dobbiamo trasformare in una questione internazionale, coinvolgendo, come la nostra fondazione ha fatto con un convegno che si terrà a Milano il 5 ottobre, coinvolgendo i rappresentanti degli stati africani di provenienza degli immigrati, perché ci risulta che la migliore elite, la giovane elite africana, consideri lo Ius Soli un non problema e consideri invece che l'Europa abbia dei doveri diversi, forse di non finanziare con miliardi che non si sa dove vanno a finire mai nelle tasche degli africani che lavorano e che producono e considera la stessa immigrazione come un grave problema di depauperamento delle migliori intelligenze e delle migliori forze produttive. Io voglio anche riferirmi all'ottima mossa fatta da Maroni sullo Ius Soli rispondendo alla presa di posizione del Civesco di Milano, dobbiamo far capire bene in che misura, in quali limiti e per quali motivi siamo contrari Ius Soli, non per fanatismo xenofobo, perché non ci appartiene, grazie a Dio, non ci sono casi di questo genere che coinvolgono noi, magari in altre regioni molto lontane dal nord ci sono stati, non da noi, grazie a Dio e non ci saranno mai, perché noi nasciamo, è importante ogni tanto soprattutto per i giovani, ricordare che noi nasciamo da quei movimenti autonomisti che non avevano la possibilità di fare queste assemblee, che erano poveri, che facciavano solo le scritte murali come ha cominciato Bossi, Maroni eccetera, ma che avevano le idee molto chiare, la libertà dei popoli, la libertà dei popoli e chi vuole la libertà, difende la propria lingua, la propria etnia, il diritto per noi a continuare a essere una nazione bianca e cristiana, beh c'è obbligatoriamente rispetto per tutti gli altri, l'importante è che non vengano a romperci i coglioni, dice la solidarietà, ma certo la solidarietà, la solidarietà, case popolari eccetera, prima naturalmente è stato detto ai nostri, poi per gli altri se ce n'è, purtroppo adesso per gli altri non ce n'è, purtroppo, se ce ne fosse ben volentieri. Quindi primo punto, io soli, da far diventare un tema europeo, far diventare, a maggio si voterà per le europee, io dico che fin da adesso i partiti preparano il programma per le europee dieci giorni prima e poi saltano fuori tutti gli urologi, durante i cinque anni del Parlamento europeo non gliene frega niente a nessuno, né sui giornali, esperti, non se ne vedono convegni, per carità, deputati europei dei partiti, non si vedono mai, o parlano come in questo caso, si candidano nei partiti eccetera eccetera, mai che parlino degli argomenti che affrontano là, forse perché non vogliono far sapere che eseguono gli ordini di quel diktat che viene da questa costruzione burocratica e finanziaria, questa superlobby europea che apparentemente ha le sedi a Bruxelles e a Strasburgo, in realtà forse c'è la più a Francoforte, la Banca Centrale Europea o forse in qualche sede come il Club Bilderberg o la trilaterale, Presidente Letta, Anfangate, del Club Bilderberg, dove si decidono le cose che poi vengono calate sulla testa dei popoli, se è vero come è vero che i prossimi giorni il nostro Presidente del Consiglio va a baciare alla pantofola New York ai signori del CFR, una di queste super masonerie internazionali che decidono quelle cose che poi apparentemente i Parlamenti decidono, eseguono eccetera. Noi, e questo dobbiamo andarlo a dire in Europa, noi abbiamo perso ogni sovranità, ogni Stato membro ha perso la sua sovranità, quindi europeisti sì, ma europeisti come dicevano i padri fondatori, compresi quelli che non appartengono alla nostra storia politica e soprattutto i nostri grandi predecessori, Ghirò, l'inventore del federalismo etnista e tutti quei federalisti che sono, a cominciare dal maestro di Umberto Bossi, lo stesso Umberto Bossi, io ricordo gli iscritti, gli intervisti di Faccella Savoini sull'Europa e sul nostro quotidiano in tema europeo, andrebbero raccolte e forse il nostro vecchio leone farebbe bene a dedicarsi a questi temi, a scrivere, perché è un'icona, io che bazzico molto i movimenti europei indipendentisti, è un'icona e lui dovrebbe dedicarsi a questo, essere questo punto di riferimento metapolitico, perché noi abbiamo bisogno di continuare ad andare avanti su piani alti, di una lega che supera se stessa, che vola alto e che può essere punto di riferimento, ma dobbiamo creare questa entente con i movimenti europeisti identitari, anche in Francia aspira un vento identitario, lo sapete cosa succede a Marsiglia? I giornali a Marsiglia, Figaro, dice fra poco anziché la battaglia di Algeri ci sarà la battaglia di Marsiglia, già divisa in due parti, a Nizza i cortei lanciano su Facebook un messaggio di solidarietà al gioielliere che ha sparato in due giorni in Francia, nella moderata e nella tranquilla Francia, un milione e mezzo di firme di solidarietà, di adesioni, le elezioni in Norvegia, quello che succede in Belgio, dove ci sono due partiti, uno che piace a me superestremista e uno moderato che piacerebbe alla lega ufficiale, indipendentista, quello moderato è indipendentista e prende il 30%, svegliati lega nord, svegliati, vieni a vedere cosa succede in Fiandre, un paese liberale, sono liberali ma indipendentisti, indipendentisti come me!